Sono stati presentati i dati delle attività svolte dall'Inps di Frosinone oltre al bilancio sociale. Emerge che la Ciociaria è il territorio del Lazio con il reddito medio più basso, poco più di 18.000 euro. Dalla relazione della Presidente del Comitato Provinciale Inps Anita Tarquini è emerso che a fronte di un imponibile medio regionale pari a 23.442 euro in Ciociaria è di 18.076, cioè circa 5.000 euro inferiore. Di vario retributivo che viene confermato anche analizzando la distribuzione percentuale dei dichiaranti della Ciociaria, nel 2021 il 46,7% ha avuto redditi inferiori a 15.000 euro, soltanto il 2,4% ha dichiarato somme superiori a 55.000 euro. È la percentuale più bassa tra tutte le province laziali.